Amici di Sport Casertano, ci rivediamo dopo la vittoria della Casertana per 3-0 sull'Oppito e credo che ci vediamo, non ci sentivamo da prima delle feste, vi rubo solo 2-3 minuti per la mia vicenda personale, credo che avete letto, avrete visto anche le varie trasmissioni dove per aver espresso le mie opinioni martedì scorso su alcune vicende che riguardavano la Casertana Calcio, il padrone del Vapore ha deciso di eliminarmi dal elenco degli addetti ai lavori e domenica non ho potuto assistere alla partita, l'ho vista per televisione. Chiuso questa piccola parentesi mia personale, vorrei solo ringraziare i colleghi tutti dalla Stampa per la solidarietà che hanno espresso nei miei confronti, a cominciare da Lussi, dalla Stampa di Casert e da Prima Reda Serio per lo spazio che hanno voluto dedicarmi e per la solidarietà. E ringrazio, come ho detto in trasmissione a Teleprima, anche coloro che non mi hanno espresso l'edità e hanno deciso di seguire l'intervista del tecnico Ferrari, cosa che ha deciso la società, che era l'intervista tutti insieme e non singolarmente, erano pochi onestamente, pochissimi, però ringrazio lo stesso anche loro. Veniamo alla partita, la partita a me non è piaciuta affatto, è una partita strana, forse l'hanno sottovalutata oppure anche il lavoro svolto durante le feste natalizie dall'allenatore per riportare la squadra a un certo livello, sta incominciando a farsi sentire e credo che più passano le partite più la squadra incomincerà ad essere brillante e incomincerà ad essere sciolta. Non dimentichiamo anche che alcuni degli acquisti effettuati da Casertana a dicembre e nell'ultimo mese per il di novembre avevano giocato pochissima, che significa che gli manca anche il ritmo partita e solo giocando possono acquistare questo ritmo partita. A me non è piaciuta la formazione, in casa posso capire due centrocampisti, tre punte e mezza punta, un tornante che poi è tornato poco perché abbiamo per lunghi tratti ha avuto la partita in mano e mi auguro che domenica prossima a Torre del Greco lui ritorna con un centrocampista in più, faccio giocare quinto dall'inizio con Burgos e Pondillo ai lati, quinto davanti alla difesa e con un attaccante in meno. È il mio modo di vedere la partita, credo che giocare solo con De Vove nel centrocampo, anche se vengono aiutati da due esterni che a turno può essere Maggadino di Ruocco e Sigle dall'altra parte, è una cosa diversa se questo modo di giocare viene attuato da un centrocampista. La partita di domenica a Torre del Greco è fondamentale per il proseguo della Casettana e mi auguro che la Casettana faccia una grossa gara e che riesca a centrare l'obiettivo della vittoria per poter proseguire a testa alta e lanciare un segnale alle squadre che la precedono in classifica per dire che ci siamo anche noi. L'altra cosa preoccupante in queste prime due gare di quest'anno è la gara di Francavilla, è la gara di domenica dove la Casettana ha sbagliato tantissimi gol. Abbiamo 34 gol fatti e 21 subiti, se avesse segnato il 50% dei gol mangiati, come si dice in gergo, sia a Francavilla che a domenica Sostra saremmo a 40-42 gol segnati come il primo attacco di tutti i gironi. Invece abbiamo 34 e 37 la Sarnese. Io questo vi dovevo, per i problemi che era la Casettana, scusate se ritorno, ho chiuso la parentesi per me tutto quello che scriverà la Casettana col suo ufficio stampa, lo stesso Presidente. Io da oggi faccio giornalista, lui fa il Presidente, per me la vicenda è chiusa. Vi rimando a un comunicato stampa che ho mandato ai vari siti e lo leggerete sul nostro sito Sport Casettano dove io elenco alcune cose che la società ha scritto, io per l'amore della verità dico le mie e questo vi posso dire, quando io dico che è la mia verità, queste cose che ho scritte nel comunicato, è la verità, non è la mia verità, è la verità. Grazie, ci risentiamo nella prossima intervista e credo che durante il proseguo cominciate a leggere anche la mia collaborazione anche scritta con Sport Casettano, datemi il tempo di mettere a posto le idee e poi vedrete anche quello che vi scriverò sulle partite che giocheremo. Grazie a tutti.